Intervistato da Sport Italia, Francesco Colonnese, un ex calciatore con esperienza sia nell'Inter che in nazionale, ha espresso le sue opinioni sulla partita di domani sera al Meazza, le vittorie negli scontri diretti sono sempre fondamentali, l'Inter non può permettersi di fare altri errori, deve vincere per ridurre il distacco dal primo posto, non ha altre opzioni. Anche se manca ancora molto alla fine del campionato, il Napoli ha un buon vantaggio e deve rimanere concentrato. Se continuasse così, sarebbe la favorita per la vittoria dello Scudetto. Domani sera, Marcelo Brozovic non sarà presente, è un calciatore di talento, ma Inzaghi ha dimostrato di avere validi sostituti a centrocampo. Cialanoglu sta dimostrando di essere affidabile. Romelu Lukaku tornerà in primo piano, deve tornare ad essere il calciatore ammirato in passato, quest'anno non lo abbiamo ancora visto. L'Inter l'ha ripreso perché fosse il leader di un tempo.